Tonnellate di fanghi che dovevano essere smaltiti nelle discariche a cavallo tra il 2017 e il 2018 sono invece finiti in mare. Punta a fare luce su quanto è accaluto in una fase emergenziale della gestione rifiuti a Napoli l'indagine della procura della guardia di finanza e della polizia che ieri hanno eseguito tre arresti in carcere, 14 ai domiciliari e due sospensioni che riguardano altri due agenti della polizia. Tutto avveniva secondo l'accusa attraverso la corruzione dei vertici di allora della SMA Campania, la società in house della regione utilizzando la tecnica dell'affidamento diretto accordate di imprenditori guidate da un pluripregiudicato, Salvatore Abate. A casa di Abate i finanzieri hanno trovato molto denaro contante in pacchi di banconote sottovuoto, così tanto che è stato difficile contarlo. Tra le persone coinvolte nell'indagine figura anche l'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luciano Passariello, che era presidente della commissione d'inchiesta della regione sulle società partecipate. Gli inquirenti hanno chiesto per Passariello una misura cautelare in carcere, ma il GIP, Vincenzo Caputo, non ha ritenuto provato il suo coinvolgimento nell'indagine. Mancano gli indizi. Nel rispetto che ho sempre avuto nei confronti dell'operato della magistratura, resto a disposizione per fornire qualsiasi informazione in mio possesso, ha detto Passariello, nell'auspicio di poter anche ricevere adeguate informazioni e ciò nella certezza che presto possa essere dissipato qualsiasi dubbio. Così la nota dell'ex consigliere regionale.